E' ancora buona giornata da parte di Marco Revello, ben ritornati negli studi di Tele Radio Pace con la seconda edizione del TG Rassegna Stampa di oggi, 5 di agosto. Siamo arrivati a lunedì, quindi questa in realtà è la prima settimana intera dell'ottavo mese del 2024. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Solari che curerà la parte tecnica in regia e che adesso ci mostra qual è la solennità del giorno più che il santo del giorno, perché oggi è una solennità importante, 5 di agosto si ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, ma si ricorda soprattutto il miracolo della neve, appunto nevicò, ci fu una nevicata proprio in uno dei colli romani dove poi sarebbe sorta la Basilica di Santa Maria Maggiore. Non siamo distanti dalla stazione Termini, siamo proprio nel centro-centro di Roma adesso, ma all'epoca sappiamo che non era proprio così, il centro di Roma era molto più spostato, quindi lì nacque questa Basilica e la dedicazione sarà ricordata solennemente come ogni anno, anche quest'anno oggi e per oggi ci sarà una cosa speciale, cioè la presenza del Santo Padre Papa Francesco, che sappiamo dalla sua elezione, proprio anche il giorno stesso della sua elezione, è sempre stato molto legato a questa chiesa, a questa basilica, che comunque è il santuario diciamo mariano di Roma. Oggi festa anche in molte altre comunità, parrocchiali per esempio anche nel nostro territorio, perché la Madonna della Neve, cosiddetta Santa Maria della Neve, è molto ricordata e a lei sono dedicate cappelle, chiese, parrocchie, quindi sarà una giornata di festa in alcune comunità. Andiamo adesso invece a vedere altri santi ricordati in questo 5 di agosto, Sant'Emidio Vescovo e Martire, Santo Svaldo di Nortumbria, Re e Martire, Santa Margherita la Scalza, Santa Nonna, perché ogni tanto c'è questa Santa Nonna, in realtà esiste proprio, Santa Nonna, poi San Cassiano di Ottun, Beato Federico Iassun, Beato Francesco da Pesaro, San Memmio, San Paride e ancora Beato Pietro Michele Norel, Martire, San Venanzio di Vivier e San Viatore Remita. Auguri quindi a tutti coloro che oggi festeggiano il loro Santo Patrono, beh Santa Nonna, quindi potrebbe essere la festa di tutte le nonne, in realtà la festa dei nonni c'è appena stata, nell'ultima domenica di luglio e naturalmente l'augurio anche a coloro che oggi ricordano una lieta ricorrenza e quindi celebrano un anniversario, coloro che sono nati in questo 5 di agosto che si apre nuovamente con una giornata caratterizzata dall'anticiclone africano, anticiclone africano che molti invocavano, ricorderete, quando non arrivava mai, diciamo, a metà giugno, alla fine di giugno, all'inizio di luglio e avevamo continue perturbazioni e temperature fresche, molti invocavano l'anticiclone africano e io dicevo guardate che poi arriva e molti non vedranno l'ora che se ne vada. E infatti è così, è così, molti che magari invocavano l'anticiclone africano adesso non vedono l'ora che se ne vada e in realtà questo anticiclone africano qua da noi si trova molto bene e ha deciso di starci ancora un bel po'. Anzi, non solo, in questa settimana riuscirà ad abbracciare sotto le sue roventi braccia anche parte dell'Europa che fino adesso era stata, diciamo così, preservata da questo anticiclone. Quindi arriverà addirittura su tutta l'Europa sud-occidentale, ma tenterà anche di andare ben oltre l'arco alpino, ben oltre l'Italia e andare verso nord. Insomma è una situazione che abbiamo visto anche durante altri stati, non è una situazione assolutamente inedita e quindi succede anche questo, con questa espansione che evita a molte perturbazioni atlantiche di entrare non solo sulla fascia italiana del nord, ma anche addirittura in altre parti, più a nord ancora dell'Italia, dove invece una certa attività, diciamo così, è consueta, pensiamo, appunto alle regioni nordiche europee. Questo porterà ad un aumento anche delle temperature, perché allora ci troveremo proprio nel cuore, cuore del ciclone, anzi dell'anticiclone e quindi avremo delle temperature che risaliranno, molto probabilmente ritorneranno ai livelli che abbiamo visto all'inizio della scorsa settimana. Quindi da metà settimana, esattamente a mercoledì, giovedì, potremo avere una nuova infiammata delle temperature che potrebbero nuovamente raggiungere anche sulla Liguria i vei 35, 36, 37 gradi, o anche 38, abbiamo visto in alcuni casi, che hanno interessato la Liguria all'inizio della scorsa settimana, perché in realtà i valori del weekend sono stati un po' più bassi, ora non si sono abbassati di moltissimo, non siamo mai scesi sotto i 30 gradi, però appunto c'era stata un arretramento della situazione, anche perché molto spesso quando arretrano le temperature, ma il grado di umidità dell'aria rimane molto elevato, il disagio fisiologico per il caldo a volte non solo rimane lo stesso, ma può anche acuirsi. Le notti sono abbastanza tropicali, andiamo a vedere l'ultima notte, che insomma la serata di ieri è stata più fresca sicuramente delle altre serate, quella rispetto a quelle di venerdì e di sabato, la sera di ieri è stata più fresca, in realtà la notte non ha mantenuto proprio le promesse di una serata fresca, quindi si è più o meno fermata a quel livello lì. Andiamo a vedere, iniziando dalle alture, per esempio non è disponibile la temperatura del Monte Bue, quindi andiamo ai 1400 metri della casermetta del Penna, dove la temperatura si è fermata ai 15 gradi punto 1, siamo a 1400 metri, quindi 15 gradi sono tanti, 15 gradi e mezzo a Roccadaveto, qualcosa di meno a Rezzoglio 14.6 e 13.9 a Cabanne, come sempre con l'anticiclone abbiamo l'inversione termica, quindi un po' più freddo al suolo che in quota. Poi andiamo invece, per esempio, in Val Graveglia, a Pontori, e purtroppo la Vala di Sturla aveva tre punti di osservazione, in questo momento non ne funziona neanche uno, quindi allora 23 gradi e 4, 23 gradi e 4 è stata la minima a Pontori, quindi piuttosto elevata, 20 gradi e 7 a Favale di Malvaro, 20 gradi tondi e tondi a Pezzonasca di Moconesi, 22 gradi e 6 a Pian dei Preti di Tribogna, e 23 gradi e 8 a Villa Uneto di San Colombano. Sulla costa le temperature non sono scese sotto i 24 gradi, 25,8 a Casa del Mare di Santa Margherita, 24,8 a Rapallo, zona lungomare, 25 gradi, addirittura la minima sul porto di Chiaveri, qualcosa di meno nella parte 24 gradi nella zona di San Pier di Canne, 22,9 in località Berissi a Lavagna, quindi una temperatura che fa un po' eccezione, poi andiamo a Sestri-Levante con 26,4 in località San Bernardo, 26 gradi anche a Moneglia, 25,9, andiamo nel Golfo Paradiso, Ruta di Camogli con 24,8, 25,8, quasi 26 gradi di minima a Sori, e anche a Nervi, non si è scherzato, con 26,7 gradi, quindi possiamo dire una notte tropicale anche questa, per quello che definiamo un po' il tempo in Liguria, un clima tropicale, perché intanto è caldo-umido, che è proprio una caratteristica dei tropici, e poi queste notti che non scendono sotto i 24 gradi, davvero ci ricordano le notti della zona tropicale, ma viene definita proprio così tecnicamente, notte tropicale se non va sotto i 23 gradi. Poi andiamo invece a vedere nella zona interna di Genova, quasi 25, 24,5, 24,6 a Marassi, a Genova Pranch è peggio, 26,2, poi a Savona appunto 24,8 gradi, ad Imperia 24,9 gradi, a Sanremo 24,4 gradi, alla Spezia 24,3 gradi. Quindi vedete che le temperature non sono scese assolutamente, non solo sotto i 24 gradi, ma in qualche caso, come a Genova per esempio, sono state addirittura più elevate. Cosa ci aspetterà in questi primi giorni della settimana? Più o meno, scusate, più o meno la situazione che abbiamo visto, quindi non c'è un mutamento clamoroso, ma avremo sicuramente, diciamo, delle giornate caratterizzate da tempo stabile sulla costa, qualche temporale nelle zone interne, nelle ore più calde, quindi primo pomeriggio. Questa evoluzione oggi, per esempio, dovrebbe esserci anche qualche sforamento sul resto dell'entroterra, quindi non solo Alpi Liguri e altri rilievi della Val Daveto, della Val Trebbia, ma potrebbe interessare anche altre parti dell'entroterra, sia a Ponente che a Levante. Domani, da domani in poi, invece, questi temporali saranno localizzati soltanto nelle zone particolarmente soggette, quindi, appunto, abbiamo parlato di Val Trebbia, Val Daveto, insomma, queste zone qua, e naturalmente le Alpi Liguri. Andiamo adesso, invece, sulla cronaca, cronaca che arriva in diretta, diciamo così, come si dice, in tempo reale, sul sito del Corriere della Sera, quindi partiamo da un quotidiano nazionale, oggi non abbiamo a venire, come ogni lunedì. Allora, l'Iran prepara l'attacco, sarà rappresaglia o guerra totale, Israele col fiato sospeso, l'allarme dei 007, stavolta reagiremo subito, quindi non è come l'altra volta che Israele, insomma, ha, diciamo, un po' tergiversato, sul famoso attacco di droni in una notte, che poi non ha fatto granché, appunto, sul territorio israeliano. Lì la contromossa di Israele era stata un po' fermata dalla diplomazia americana, dall'Europa, insomma, da tutti che chiedevano di non contrattaccare e così è successo. Questa volta, però, questa volta invece gli israeliani hanno già detto che reagiranno praticamente subito e quindi, insomma, si pensa ad uno scenario cosiddetto all'escalation del conflitto, perché vedete che comunque tra Iran e Israele c'è di mezzo la Siria, l'Iraq, la Giordania, quindi siamo nella guerra quasi totale del Medio Oriente. Questo è uno scenario molto temuto ormai da diversi mesi, ma in queste ultime ore pare che possa essere uno scenario possibile. Camenei, umiliato e spaventato, adesso vuole ferire il nemico puntando alla sorpresa. Poi è un racconto, diciamo, anche di cose belle che possono succedere in momenti così tragici. Gaza, tre sorelle, il racconto della diaspora con un granello di pace via Zoom. Poi, vabbè, oggi il Corriere della Sera è pieno di cronaca sportiva con le Olimpiadi che ci hanno regalato alcune medaglie, quella d'oro per il tennis nel confronto tra il doppio femminile. Sara Errani e Jean-Suin Paolini vincono l'oro perché Parigi è diversa da Tokyo, Jacobs e Tamberi non si abbracciano più. Paltrinieri, Errani e Paolini una domenica da ricordare anche Paltrinieri è tornato sul podio con la medaglia d'argento. Una prestazione veramente molto bella. Poi oggi, naturalmente, l'Italia in finale nel tiro a segno, nel tiro a volo, nella ginnastica, in serata c'è poi l'atletica. Poi c'è stato l'oro di Djokovic ieri che chiaramente è stata una impresa storica per il tennista che ha vinto praticamente ormai tutto. E poi rivediamo le nostre due tenniste che festeggiano dopo la finale contro due tenniste russe. E poi qua una notizia che ci interessa da vicino. Case e vacanze dove valgono di più? Allora, guardate questa classifica che è la top ten in Italia. C'è molta montagna perché c'è Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio, Corvara in Valbadia, Selva di Valgardena, Ortisei, Cormaier per la Val d'Aosta, ma poi ci sono nella classifica ben tre località del Tiguglio. Portofilo alla prima posizione, Sestri Levante alla quarta posizione, Santa Margherita Ligure in nona posizione. Quindi tre, anche piccoli, se vogliamo, comuni del Tiguglio contro delle corrazzate come Cormaier, come Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo addirittura. Case e vacanze dove valgono di più? Portofino top, Alivigno prezzi su del 50% con le Olimpiadi che arriveranno perché ci sono le Olimpiadi invernali. La Valtellina che si prepara ai giochi del 2026, Campiglio vince il derby delle Dormiti, sul Garda tiene Sirmione e la Liguria di Ponente attira i francesi. Però tre località del Tiguglio nella top 10 delle case vacanze che sono più care. Poi andiamo ad altri argomenti purtroppo meno lieti. Ucraina, Zelensky mostra i primi F-16 degli Stati Uniti, non bastano ancora ma ce l'abbiamo fatta. Il Presidente ucraino è il jet da Washington per contrattaccare la Russia. Poi lancia un'alleanza antimissili con i paesi nato vicini. Poi ci sono naturalmente spazi alla politica, un'intervista al governatore del Veneto Zaia, mi fa rabbia la narrazione contro l'autonomia, il vero spacca l'Italia e il referendum, quindi chiaramente la Lega e un po' tutto il governo temi di questo referendum abrogativo. Bonaccini, il governo è più debole ma non cadrà presto. Campo largo solo se alternativo alla destra. Parla quindi lo sconfitto alle ultime elezioni per la segreteria del PD, attualmente Presidente del Partito e anche Presidente dell'Emilia Romagna. Passiamo alla prima pagina del secolo XIX che titola l'Iran pronto ad attaccare italiani lasciate subito il Libano, gli Stati Uniti probabili ride contro Israele già oggi, un bunker per proteggere il governo israeliano se il conflitto a quattro e più vicino è l'analisi di Ettore Sequi. E poi ancora revisioni sulle stragi e l'imbarazzo della Premier dopo le dichiarazioni di Mollicone dei Fratelli d'Italia sui giudici dei processi e poi ancora i cantieri sulle statali scatta la treguestiva ma ci sono 17 eccezioni. E ancora Totti verso il disgelo con Fratelli d'Italia presso il Summit con Donzelli, il centrodestra a caccia del candidato, le mosse di Claudio Scagliola e poi un tavolo per i nomi del centrodestra all'intervista all'Odi esponente del partito di Calenda Azione. Ancora dalla prima pagina del secolo Eguaduriani in Liguria esempio di integrazione una comunità che raggiunge 14.000 persone in una regione che insomma a malapena arriva ai 2 milioni di persone e poi la maestra che liberò i ragazzi dall'ignoranza il racconto che arriva dalla Liguria e poi allarme scuole vecchie ad alto rischio sismico nel Tiguglio e allora andiamo a vedere questa notizia partendo da Rapallo scuole molto vecchie e a rischio sismico scatta la corsa ai lavori le norme risalgono al 97 ma in Riviera soltanto il 6,2% appunto del totale degli edifici destinati alle scuole è stato costruito dopo i finanziamenti del PNRR decisivi per adeguamenti attivi avviati per gli istituti di Rapallo infatti parla l'assessore rapallese Filippo Lasinio assessore ai lavori pubblici avendo trovato i fondi necessari in alcuni casi è stato meglio intervenire anche in chiave antincendio quindi non solo antisismico e poi naturalmente lavori anche in altre zone della nostra regione per esempio si ricorda che a Santo Stefano Davito c'è l'unica scuola costruita secondo gli ultimissimi dettagli antisismici anche perché poi sappiamo quanto appunto la zona dell'Aveto si sia riscoperta sismica negli ultimi anni perché ci sono stati vari episodi varie scosse che per fortuna non hanno mai impensierito più di troppo diciamo la popolazione ci sono stati danni particolari però un'attività sismica è ripresa molto diciamo molto diciamo intensamente nella zona proprio dell'Aveto ma anche la nostra zona ricordiamo l'ultimo sisma che c'è stato ha avuto l'epicentro sul promontorio di Portofino quindi anche la nostra zona si è riscoperta più sismica di quello che magari ci si poteva aspettare a Rapallo però questo non è l'unico lavoro in corso non ci sono solo i lavori per adeguare sismicamente le scuole ristando a Rapallo c'è un altro lavoro che interessa un impianto sportivo ed è la piscina del Poggiolino allora siamo andati a vedere con le nostre telecamere come procedono questi lavori appunto alla piscina di Rapallo ripartire con le attività nella vasca interna dall'autunno quando saranno ultimati i lavori di strutturazione interna e avere l'impianto completamente riqualificato entro la fine del 2024 andando ad intervenire sulle strutture esterne quando queste di fatto sono comunque non utilizzate prosegue seguendo il cronoprogramma stabilito l'intervento di amodernamento e riqualificazione della piscina del Poggiolino di Rapallo un piano lavori per i quali sono stati investiti oltre 2 milioni di euro e che ha visto la stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Rapallo Nuoto società che ha in gestione l'impianto è stato rifatto tutta la vasca esterna della parte della piscina coperta è stato rifatto tutto il tetto che verrà risanato internamente con un intervento pesante di sabbiatura verniciatura adeguata e verrà poi tutta rifatta anche la copertura e sopra per renderlo perfettamente impermeabile altri lavori molto importanti sono quelli relativi alla filtrazione e riscaldamento delle tre vasche che hanno subito anche qua un intervento molto logico ben costruito di divisione delle vasche esterne rispetto alla vasca interna in modo da gestire meglio gli impianti con una migliore ottimizzazione quindi tutta la parte di pompaggio e molto importante l'inserimento di apporti energetici rinnovabili come il fotovoltaico sul tetto e il solare termico sulla copertura del bar che servirà per l'acqua sanitaria in queste ore si è svolto un sopralluogo per fare il punto sugli interventi fatti e quelli ancora da eseguire i due lotti quello relativo alle strutture e quello legato all'impiantistica di fatto sono stati uniti per velocizzarne la realizzazione ancora qualche settimana quindi per completare i lavori interni si proseguirà con le aree esterne una volta diciamo chiusa la stagione estiva rientreremo nella vasca interna che sarà regolarmente agibile e funzionante dopodiché si andrà avanti con una serie di lavori esterni tra cui la pavimentazione delle vasche esterne e altri lavori ovviamente di miglioramento e di ristrutturazione e di rimessa in ordine delle piastradature sia della vasca che del bordo da Rapallo ci spostiamo a Chiavari sempre con il secolo XIX oggi appunto si parla di scuole visto che magari non ce ne stiamo accorgendo ma tra un mesetto circa riprende l'attività scolastica beh già fine mese con gli esami cosiddetti di riparazione o i debiti eccetera poi si rinizia con l'attività scolastica da metà mese di settembre quindi manca veramente un mese e allora si riparla un po' di scuola allora carenza di spazi nella città degli studi ragazzi e bimbi costretti a continui traslochi i liceali di Chiavari vedono la fine del tunnel con i nuovi locali di via Castagnola tra gli asili preoccupa la situazione della torre dopo il crollo del pavimento e appunto poi dei sopralluoghi successivi che hanno dato purtroppo dei risultati non buoni per l'intera struttura di via del Pino e quindi lì si dovrà intervenire e per riuscire almeno a fare una progettazione decente anche YLab società che aveva un affitto a ambienti all'interno del palazzo appunto di via del Pino si è offerta di pagare l'analisi e di vedere insomma la progettazione degli interventi per almeno diciamo così mettere a sicurezza questi impianti poi qua siamo anche a San Pier di Canne dove ci sono ancora i lavori di ristrutturazione della scuola della scuola elementare con i bambini chiaramente che sono stati poi trasferiti in un'altra sede e che quindi insomma non vedono l'ora di tornare in questa struttura che però è lungi dall'essere terminata quindi ancora con una fase piuttosto avanzata dei lavori insomma è una situazione per gli studenti di Chiavari la cosietta città degli studi perché a Chiavari c'è la maggior quantità di studenti di tutto il Tiguglio perché arrivano anche chiaramente dalle città vicine dalle vallate vicine purtroppo è una situazione non diciamo troppo positiva mentre invece l'entroterra va all'avanguardia con alcune strutture appena realizzate qua siamo a Ferrada di Mocconisi questo è lo stato attuale di realizzazione di una scuola che poi ospiterà più avanti i ragazzi l'entroterra all'avanguardia ricostruzione conclusa per il plesso di Ferrada di Mocconisi mentre a Ne nascono asilo nido e primaria quindi insomma l'entroterra non sta con le mani in mano e quindi va verso l'apertura di nuovi plessi che saranno ovviamente all'avanguardia per tutte le normative anti incendio anti sismiche eccetera andiamo adesso invece alla cronaca perché a Rapallo nel fine settimana c'è stata una rissa nella serata di sabato ma non durante la ecco noi siamo abitati a vedere risse e atti teppistici in piena notte quindi ci si sveglia il mattino e si vedono i risultati invece in questo caso la rissa è scoppiata nell'ora dell'aperitivo nell'ora un'ora topica diciamo di proprio di occupazione e di appunto tanta gente che era nel centro storico di Rapallo perché parliamo della centralissima via Mazzini andiamo a leggere rissa nel centro di Rapallo è stato un regolamento di conti le indagini della polizia al racconto dei commercianti sull'agguato teso sabato sera appunto all'ora dell'aperitivo erano armati di bombolette spray e coltello l'assessore piazza dice ci vuole una risposta immediata sono stati tutti identificati e sono rimasti nel commissariato di polizia fino alle 6 del mattino del giorno successivo per loro sono avviate le procedure che dovrebbero portare alla denuncia per rissa sono 5 cittadini egiziani tra i 20 e i 30 anni fermati degli agenti a seguito di quello che ha tutta l'aria di essere un regolamento di conti consumato all'ora dell'aperitivo del primo sabato d'agosto sabato appunto 3 agosto nel cuore del centro storico di Rapallo e per giunta nell'angolo diventato simbolo ormai della movida rapallese abbiamo avuto molta paura raccontano a titolare di un negozio di piazza del pozzo soprattutto per la folla che scappava perché appunto a quell'ora era molto frequentata quella zona e all'udire le urla a vedere i tavolini che volavano eccetera la gente ha iniziato a scappare e purtroppo queste scene di panico poi sono anche quelle che procurano i maggiori effetti anche dal punto di vista poi dei sappiamo appunto bene cosa successe in alcuni altri casi in alcune altre città quindi addirittura il panico potrebbe essere anche diciamo peggiore della rissa molti sono chiusi dentro i negozi cinque stranieri che erano scappati e appunto c'era un odore di spray di spray appunto di queste bombolette che sono state utilizzate per questo che poi è tutta l'area di essere stata proprio una vera e propria aggressione nei confronti di altri cittadini appunto evidentemente c'è stata quella che si chiama regolamento dei conti quindi qualche cosa in sospeso che è stata voluta in qualche modo diciamo punire però adesso si va avanti con le indagini per capire la vera dinamica di quanto è successo mentre invece un altro fatto legato ad un incidente stradale l'incidente era avvenuto il 22 luglio scorso a San Michele di Pagana vedete appunto San Michele è sempre molto trafficata è un po' ingorgata dal traffico c'è la famosa strettoia e quindi gli incidenti purtroppo a San Michele di Pagana sono quotidiani cioè ogni giorno ne succedono un paio spesso non sono gravi e quindi non arrivano neanche sulle pagine dei giornali spesso invece sono anche piuttosto gravi in quel caso il 22 luglio scorso a San Michele di Pagana un uomo ha urtato un altro scooter che è caduto ma invece di prestare soccorso è scappato e quindi ci sono stati alcuni giorni per rintracciare appunto l'autore di questo incidente ed è un uomo di quasi 70 anni di Santa Margherita Ligure che è stato individuato dalla polizia municipale di Rapallo il fatto racconta il comandante Marco Delpero è avvenuto in via San Michele davanti al civico 27 è stato una sorta di tamponamento in presenza di colonne di autoferme una moto infrenata ha urtato uno scooter sono caduti entrambi al suolo e soccorsi di automobilisti presenti ma il conducente della moto che poi era diciamo così autore del tamponamento però chiaro non era un incidente così grave invece di rimanere lì e aspettare i soccorsi e farsi identificare è scappato il ferito pensionato classe 1946 anche egli di Santa Margherita Ligure ha riportato 30 giorni di prognosi ma gli inquirenti hanno saputo successivamente che dovrà sottoporsi ad altri accertamenti ancora in ospedale e poi malore alla guida investe tre passanti e scappa poi ricoverato paura arriva Trigoso l'altra mattina dove appunto una persona alla guida della sua auto ha prima buttato a terra una giovane donna poi ha continuato la sua corsa verso il suo garage nella frazione di riva appunto a Sestri Levante e a poca distanza ha messo a terra altre due persone che in un primo tempo sono sembrate almeno una delle due molto grave poi per fortuna invece è stato declassato il codice giallo dopo sono due gli investiti al pronto soccorso non gravi e quindi adesso si deve tentare di capire cosa ha preso questa persona che appunto ha investito questi passanti comunque è stato ricoverato lui stesso all'ospedale San Martino di Genova magari con qualche variante rispetto agli stretti fatti il racconto è circolato rapidamente dove di bocca in bocca si è divulgato appunto questo fatto che poi chiaramente quando c'è il passaparola anche diventa ancora più eclatante di quello che davvero è stato per fortuna quindi le persone ferite non hanno riportato gravi gravi fratture gravi conseguenze però purtroppo è un fatto che deve far pensare alla possibilità di avere a che fare a volte con automobilisti non in grado non in grado mentalmente di riuscire a guidare oppure a volte distratti eccetera quindi l'attenzione da parte dei pedoni deve essere massima è caldo intenso in riviera molto lavoro per il 118 temperature sempre sopra i 30 gradi con alto gradio di umidità quindi purtroppo sono stati anche nel fine settimana numerosi malori proprio per le temperature a fose e sono stati appunto richiamati gli uomini del 118 e delle pubbliche assistenze per fortuna però non si segnalano diciamo così effetti molto molto gravi per coloro che sono stati colpiti poi si è ricordato un agguato un agguato avvenuto appunto a Calvari quell'agguato agli alpini è il sacrificio che salvò 20 innocenti a Calvari 80 anni fa la fucilazione dei due guardafili Falco e Ferraro ricordati anche da una targa appunto messa a Calvari il mattino dopo il paese nelle case sulla collina inizia il rastrellamento ancora dal secolo XIX di oggi c'è una notizia che arriva dalla vicina parte del Levante di Genova liquami in mare dal depuratore di Quinto ora le analisi sono ok in 5 punti su 6 Genova in corso gli accertamenti dei laboratori Arpa l'attesa per oggi la revoca del divieto di balneazione ancora ignota la natura delle sostanze fuoriuscite dall'impianto su questo e sull'allarme indagano adesso i magistrati la procura infatti vuole fare chiarezza sulla gestione di questa emergenza vediamo nella foto appunto i liquami che si erano liberati dall'impianto di depurazione della passeggiata mare di Genova Quinto andiamo allo sport oggi il secolo XIX regala una bella pagina Valia Galdi regate disabilità sociale io ve leggio da sola alle soglie dei 60 anni la campionessa di parasailing racconta le sue sfide in barca senza aiuti impari ad arrangiarti si chiama Empowerment e appunto vediamo in questa foto Valia Galdi è durante una premiazione e poi altre immagini che invece la ritraggono proprio alla guida della sua imbarcazione non ricordo se abbiamo l'agenda con gli appuntamenti eccola qua allora agenda grazie a Paolo Solari vediamoli insieme appuntamenti in agenda per lunedì 5 agosto torna a Zoagli la festa della Madonnina del Mare dalle 14.30 alle 19 sarà possibile visitare la statua posta sul fondale con un gommone alle 21.30 la Santa Messa e alle 23 è previsto uno spettacolo pirotecnico alle 17.30 a Campopisano a Genova si svolgerà la commemorazione del 740esimo anniversario della storica battaglia della Meloria il programma prevede la rievocazione del pellegrinaggio dei prigionieri pisani la deposizione di una corona dall'oro la preghiera e la benedizione in occasione del 23esimo Festival Paganiniano di Carro si esibirà il trio Hermès alle ore 21 al Museo Diocesano di Brugnato per il 26esimo Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria alle 21.15 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari si esibirà il coro dell'Accademia Vocale di Genova il regista Luigi Di Capo alle ore 21.30 sarà ospite di Circuito sul Mare il cinema all'aperto sul depuratore di Sturla in Via del Tritone a Genova per presentare la sua opera prima Holy Shows distribuito da Academy 2 Un amore di peso lo spettacolo di Marco Cavallaro sarà visibile in prima nazionale a Borgio Verezzi in occasione del festival teatrale che quest'anno propone il rush finale all'insegna della risata intelligente la rappresentazione coprodotta dalla bilancia e esagera affronta un argomento all'ordine del giorno nella vita di spiaggia della riviera di agosto l'appuntamento è alle ore 21.30 in piazza Sant'Agostino quindi inizia un periodo veramente caldo non solo dal punto di vista meteorologico ma anche dal punto di vista degli appuntamenti degli eventi l'estate è proprio nel suo clou nel suo pieno ma dobbiamo anche ricordare che alla fine di questa settimana arriverà anche il calcio perché iniziano le partite quelle vere non del campionato ma della Coppa Italia e saranno interessate anche Lentella e anche il Sestri Levante allora andiamo a vedere come vanno le preparazioni pre-campionato pre-stagione per Lentella è su di giri perché ha chiuso appunto con un 1-0 il percorso delle partite amichevoli pre-campionato e questa volta a farne le spese è stato il Feralpi-Salò KO gruppo già solido per la Virtus Entella invece tra l'altro la rete dell'1-0 è stata firmata da Davide Castelli ultimo arrivo in casa bianco-celeste quindi buone prospettive per lui per il campionato e per la Coppa Italia che come dicevo arriverà domenica sera alle ore 21 quindi domenica sera alle 21 si gioca già la prima partita ufficiale della stagione a Chiaveri contro l'Alcione Milano che è la terza squadra di Milano tra l'altro dopo Inter e Milan il bianco-celeste il tecnico bianco-celeste Gallo lavoriamo per essere più propositivi il Sestri Levante si gode gli ultimi arrivi Primasso e Conte il Corsaro-Scotto si gode il buon pari con il Trento verso il debutto in Coppa Italia contro l'Alcione Milano per appunto Lentella e l'Albino Leffe per il Sestri Levante poi il Ligorno ingaggia Vassallo l'Imperia punta al ritorno di Fatnassi calcio-mercato della Serie D la Lavagnese pensa a Giammarresi intanto pareggia contro la Samp Primavera la forza e coraggio Alessandria partirà dalla promozione andiamo a vedere il meteo allora giornata bella soleggiata calda sulle riviere mentre sugli introterra si svilupperanno temporali pomeridiani soprattutto sulle Alpi Liguri e l'Aveto Trebbia anche un po' alla Valdivara per oggi non si possono scongiurare degli sconfinamenti anche al resto dell'entroterra mentre invece sulla costa è molto molto improbabile che possa piovere invece il regime di brezza con mare poco mosso e temperature al di sopra dei 32 gradi andiamo alla situazione prevista per domani che non è molto diversa da quella di oggi se riesco a sì se riesco ad andare a domani eccolo qua 6 agosto domani appunto i tecnici Limit prevedono sempre cielo sereno sulla costa qualche nuvola in più ma poi nel corso della giornata sviluppo di temporali che domani dovrebbero essere localizzati soltanto sulle Alpi Liguri e sull'Appennino Avetano per quanto riguarda i venti saranno a regime di brezza con mare generalmente poco mosso e temperature stazionarie e levissimo calo alle massime su centro levante ma per via degli alti tassi di umidità permane il disagio fisiologico per il caldo grazie per averci seguito grazie a Paolo Solari che ha curato la parte tecnica alla regia l'informazione torna alle 12.45 su Telepace 1 e Radio Pace noi invece torniamo domattina alle 7.30 e 8.10 da parte di Marco Revello l'augurio di una buonissima settimana a tutti